Ciao a tutti ragazzi, qua per la vostra sfortuna CXMuri, bentornati su Minecraft, allora sono un cazzone perché come potete vedere qui, nell'ultimo episodio abbiamo arrivato al livello 12 Non mi sono accorto onestamente che il livello, cioè che avevo l'artisc pieno e ho praticamente smesso di registrare dopo due minuti Il camera sono accorto troppo tardi quindi rieccoci qua nel livello 12, vi farò in pratica un breve riassunto di tutti i nostri scleri Ma visto che appunto non mi piace tipo, che ne so, cittare cazzi vari che già l'ho fatto nello scorsivello soprattutto Vediamo qui, è morto no? Speriamo di no, comunque No, mi avevi detto sta zitto È così sta zitto perché devo fare l'intro Allora, level 13 DNA, passo dopo passo trovo le sfere d'oro in basso Siamo stati tipo tre ore a capire che cazzo volesse dire e alla fine queste sfere di glowstone, cioè praticamente le sfere d'oro sono le sfere di glowstone Vediamo se riesco a farvele vedere da qua Eh, qua, vabbè, in combattere ho la rigenerazione e la velocità quindi, cioè posso tranquillamente cadere, cadere, sedere Ecco qua, lì in fondo dove c'ho la croce direzionale si vede una sfere di glowstone Mettete in 720p se non la vedete, bene, ok, cadiamo così Guarda, guarda, è qua, muoio sicuro Ecco, bravo testa, cazzo Bravo, esatto Bravo, grazie, grazie Ok, allora Dobbiamo trovare comunque ancora il diamond quindi c'è la strada Eh, sì, esatto Eh, no, e comunque io ancora devo arrivare alle... dove sei tu Ossia nell'ultima sfere di glowstone che mi pare che prima io avessi trovato... non mi ricordo... Cazzo, perché? Bravo, jumpy tech, ottimo Adesso devi ritrovarla anche tu No, non è vero, tu hai già sentato là No, 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 io ce l'ho spawn Eh, aspetta, aspetta Più che altro avevo trovato il diamond forse Vero Però finisce tipo a resistenza, Cristo Gesù Allora Perché salto troppo in alto Allora, 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 allora Dov'è che era il punto? No, non era qua I punti ce l'hanno Ah, Leo, ti vedo Minchia, è lontanissimo Perfetto, vai, jumpy così Allora, 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 allora Dov'è che... Io come raggiungere il tuo punto da cazzo Io non so vero E tu devo chiedere al marocchino che fa la vetri o semafro Bene, ottimo Allora, vediamo se da qui riesco a fare come un epic jump Non è vero, guarda come stavo epic morendo Cazzo, se mi sono buttato al lato sbagliato E come lo raggiungo adesso, guallato I don't fucking know Perché c'è un jump Beh Slash kill Beh, è morto, ok Allora 60 al minuto Parfetto Ho una fame I have fame Di mi piace No, vabbè, ok Proprio idiota Questo, se sei in Germania, ti ha fatto male Ti ho fatto coi più non ti hai Esatto Allora Dov'era quello in basso? Da che lato devo scendere? Ma io non lo so, onestamente Perché non capisco Potrebbe essere una cosa molto, molto Positiva Ok, stiamo scurrando Questa mappa, cioè, questa mappa ci porta proprio al limite di sopportazione del cervello Bravo, bravo È un po' come quando dobbiamo registrare le campagne di Left 4 Dead Che tipo ci stiamo un'ora Vabbè, quelle sono proprio mangiate del cervello Cioè, quelle proprio sono staccanti, cazzo Ti debilitano la mente E anche questa E anche questa E soprattutto se murri puoi fare minchiate che non registra Grande murri Bravo, te c'è minco Esatto Qua me le ha meritato tutte, cazzo Bravo Allora, 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 allora Bella Perché stai ancora qui a tergiversare? Ast Chi è che sta qui? Chi è che sta qui a tergiversare? Ma niente, l'immagine è pubblicata su Facebook un commento Perché stai ancora qui a tergiversare? È figa questa parola, tergiversare Già, mi impara parole nuove, attenzione L'emozione di un bambino quando impara la parola nuove L'emozione non ha voce Oh, bene Cristo Santo, sono accaduto di nuovo E mi manca un po' il respiro Ma te ci sei E sto un caduto Vatti un corpo Non è così? Dove vado il corpo? Mi toccuro Beh, bene Tra l'altro le barche volate volare in teoria sono quelle che dovevamo prendere, ma Sì, tipo sono i taxi volanti Bene, perfetto Jumpi tutti Sei proprio Sniffato Male Io sono andato di cervello ormai Allora Non è capito niente No, no Io ho capito purtroppo Infatti questo è l'ultimo video che faremo insieme Adesso ho big pianti dal patto del tubo Ma io non posso stare con uno che Ehi, diciamo qua Un bacetto Anche da queste cose Mate mia Ma io sogno bagnatissimo Che schifo Basta Non ti dice o no queste cose Guarda, Cristo Santo Non riesco a prendere il diamond È un po' un problema Se muoio di continuo, sì, è un problema, effettivamente Sì, però tu sei un po' cretino Ma da dove ero arrivato prima? Non mi ricordo Eh, che cazzo ne so Io mi sono a teleportare Vabbè Sì, tra l'altro lui si è teleportato Io ce l'avevo fatto Lui si è teleportato a me E adesso è il contrario, cazzo È finito che io ce l'ho fatta Ma non mi ricordo dove sono sceso Manco io Non salire, stai fermo Che se tipo schiatto altre 66 volte E mi teleporto, cioè Teleporto Guarda, deve dire Guarda, deve dire Questo è un porto per le televisioni Aiuto Il cervello questo capito Che proprio era tutto il limite Della sopportazione registrosa Ecco, perfetto Ti dico bari centro Perché bari periferia no? Mamma mia Ma... Che ti aspettavi? Giampite che è le freddure Boh, mi aspettavo la minchiata Il centro di Bari Come il mio perfetto di notatica Tipo lui Allora ragazzi Quest'oggi Studieremo il bari centro Che non è il centro di Bari Tipo noi Ha Ha Ok E lui Ok Visto che non ridevamo Ok E' Bocciati tutti E lui Ah Tutti ridendo Ok bene Esatto Bravo Esatto Ok bene Aneddoti Piccoli aneddoti quotidiani Della vita di Xmurri E Zjumpitex Mamma mia Che porco Ti piace quando dico Zjumpit Lo dico tutto Che è proprio quando ho metto quella Z bella pronunciata Mamma mia Che schifo Ma se muoio di nuovo mi teleporto? No non se lo porto Sì Dai Mori Crepa così ti teleporti Dove Allora Dove cazzo è? Guarda dove è? In culo è mamma Adesso vedo dove Eppure lo vedo Tu non vedi niente Cosa dici? Ok 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 Che dolore atroci Hai Ok Mi butto di qui Mi butto di qui Grande ho preso la zucca che mi ha salvato Che botta di culo mamma mia Ah ma ci sono le zucche anche da seguire Porco No ma più che altro mi ha salvato diciamo da Mi ha spezzato il salto e quindi sono rimasto vivo Ora allora Vediamo dove sei Vediamo se ti trovo Dov'è che sei? Ah ti vedo ti vedo Guarda alzati Alza lo sguardo mi vedi? Sì 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 Adesso da dove scendo Dimmi da dove scendere Eh Ah da qua Ok Ah dai dai ce la faccio stavolta Oh Bella bella Bene finalmente Finalmendo Hai rotto il cazzo Marche Allora quando io sono un pro gamer Cazzo Mamma mia sì perché è andato Porco stavo cadendo bestemmia È andato a colonia Lui è tutto Che c'entra coglione Zitto È tutto A fare i video di titan Da l'invito di champion Dov'è? Porca troia ti sei spostato Non ti vedo più adesso Cristo sono sotto il tuo culo Non è vero Mi sposto di nuovo Ah guarda dove sei Qua qui 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 Oh girati girati Ah ok minchia stavo andando alla direzione sbagliata C'è tutto il senso dell'orientamento zero eh Compa Se mi perdo anche a casa mia Mi perdono i tuoi occhi Perfetto Ma quanto sei ferrocio oggi Vabbè Ma compa quanto sono dolce Vieni qua Mamma mia Dov'è che è sto cazzo di diamond Non lo so dove è il diamond Oh vabbè Grande jumpy In realtà lo so Tu dov'è L'ho visto Non è vero È sopra una sfera d'oro Comunque È sopra una sfera d'oro Guarda come mi sono alzato Guarda come muoio Guarda come muoio Guarda come muoio Guarda come muoio Qui si è alzato Guarda come muoio 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 Ma è morto Guarda so fare il gatto Guarda da me Vieni qua Non lo so fare più Basta Vieni qua Eh cazzo Perfetto Salta è inizialto Perfetto dai È cosa si schizzerà Sì è lì Quello lì dovrebbe essere Una barca mi viene in testa Brava barca No è guarda che è soccato Lo stesso Sono morto Però ero racchatterato Sulla sfera Sì che infatti morì Sempre Quasi ricca Perché la resistenza Non dura tutto sto tempo Non so perché Eh che cazzo Perché è una merda Probabilmente si Eh cazzo Eh non ci siamo Kill ok Devo dare una cosa Forse ho mezz'idea Forse ho mezz'idea Un attimo Ok vediamo un attimino Allora Scendo scendo Vediamo se riesco a concludere qualcosa In questo episodio Dai 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 No No Per quanto Per quanto Non ce l'ho fatta Ma per quanto Per un pelo proprio Comunque la resistenza Ah sta barca di merda la rompo Oh via dal cazzo Bravo Ah praticamente sono ritornato allo spawn Ce la dovrei fare sto giro Sì che ce la faccio Sì che ce la faccio L'ho lisciato Mamma mia Ma che mira del cazzo c'ho Assurdo Ma Comunque ho capito come farlo Fermo Lo faccio io tranquillo E pure voglio fare qualcosa Perché non mi parte il super Cristo Ok dai Qua ce la devo fare Se lo centro ce la faccio Ok Ce l'ho fatta Bello Il B Vero Sì Mamma mia Che best player sono Me lo devi dire adesso Però dimmelo per favore Perché ho bisogno di Best player sono Giampi Non ci siamo con ste freddure Io te lo dico Adesso si è illuminato il mondo Vabbè io mi Ma ammazzo sti cazzi Perché sono passato Dentro la casa La safe house Ok allora adesso vado anch'io In safe house Con il big diabond E anche il livello 12 È fatto The best player del mondo Dove cazzo era la safe house Aspè Cioè dov'era il pulsante Maria guarda che non lo trovate Era praticamente Ah qua 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 Sì sì Ok Bella Bella Dov'è Vieni qua Undici Dodici Ah il tredici abbiamo fatto Mamma mia Sti cazzi Quindi adesso manca Quatordici In Quindici In Sedici In Livelli In Vieni qua In Vieni qua Vieni qua Grazie.